Il tema di avvicinare l'Europa ai cittadini, in particolar modo come abbiamo fatto questa mattina con i ragazzi delle scuole, è una cosa di cui abbiamo discusso anche molto in questi anni in commissione dalla parte dei policy makers italiani ed è un tema su cui abbiamo tanta strada da fare. Credo che questa mattina abbiamo cercato di colmare, ci siamo anche riusciti, questo gap di informazione nei confronti delle giovani generazioni su quello che è l'Europa, su quello che è casa loro, perché per i giovani, mi ci metto dentro anch'io, della mia generazione, l'Europa è casa nostra direttamente, noi siamo nati in Europa, noi siamo nati con la moneta unica, noi siamo nati con le politiche di coesione, quindi è qualcosa che è nostro e di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli, di cui dobbiamo appropriarci nella maniera più corretta, utile, efficace per noi, per le nostre generazioni, per i nostri territori.